Uno spettacolo poco decoroso, quello che appare alla vista di Piazza Passaro a Cava dei Tirreni. Inaugurata quasi un anno fa, quest'area, che sorge proprio nel cuore del centro storico della città, non versa in buone condizioni. Aiole incolte e cartacce sono rispettivamente segni di trascuratezza e inciviltà. Inoltre la piazza è luogo di aggregazione per i giovani e dunque spesso causa di schiamazzi e assembramenti inopportuni. Varie sono le segnalazioni da parte dei cittadini di questa situazione poco piacevole e, atteso, è un intervento da parte dell'amministrazione per cercare di riportare ordine e decoro alla zona.